E' stato deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento del 28 maggio scorso, anche per il 2019, il contributo a favore dei malati affetti da patologie rare. Si tratta complessivamente di 100.000 euro destinati all'acquisto di farmaci di fascia C, ovvero di quei farmaci a totale carico del paziente. Le malattie rare sono delle patologie che si trovano con prevalenza molto bassa nella popolazione. Viene considerata rara, infatti, ogni malattia che colpisce non più di 5 abitanti su 10.000. Si tratta di forme croniche, spesso degenerative, disabilitanti e condizionanti in termini psicologici e sociali. Sono inoltre fenomeni molto complessi, non solo per la numerosità e la diversità delle loro forme, ma anche per la grande variabilità di sintomi e di segni. In Italia, con l'Istituzione della Rete Nazionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Rare, avvenuta nel 2001, è stato anche istituito un elenco composto da 284 patologie rare racchiuse in 47 gruppi. Per l'accesso al contributo regionale, i cittadini dovranno rivolgersi direttamente ai comuni di residenza, a cui la Regione trasferirà i fondi necessari a coprire le spese sostenute dalle famiglie. Spetterà quindi ai comuni il compito di acquisire e verificare le istanze presentate dai malati.